D'estate non c'è solo l'andiri pieni dei vacanzieri, c'è un'altra particolare migrazione che vede protagonista anche la città di Arezzo. Stiamo parlando delle professioniste, tra virgolette, che hanno scelto il mestiere più antico del mondo, quelle che oggi nella neolingua vengono chiamate Escort. È il sito internet principe del settore, Escort Advisor, a monitorare i flussi delle ragazze squillo. Ad agosto rispetto al mese di giugno 2018 si è registrato ad Arezzo un aumento del 26% delle professioniste del sesso. La provincia retina si colloca al terzo posto nella graduatoria toscana, mentre a Siena le escort ad agosto se ne vanno meno 27%, con la calura estiva ad Arezzo arrivano, segno di un mercato piuttosto vivace. La migrazione delle escort è visibile anche attraverso un altro strumento di Escort Advisor, la mappa interattiva in grado di evidenziare dove si trovano le sex workers iscritte al sito in tempo reale. In città le zone al momento più gettonate sembrano essere Saione, la stazione, via Garibaldi e Santa Maria. Secondo le interviste di alcune escort alla piattaforma, il lavoro proseguirà almeno fino al 15 di agosto. Insomma, nella città chiusa per ferie c'è chi, pur essendo chiusa per definizione come da legge Merlin, sembra essere più aperta che mai. Con tariffe medie, sempre da recensioni su Escort Advisor, che si aggirano tra i 100 e i 150 euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.